Ciao a tutti, oggi è 4 maggio 2018, sono in Alessandria, esattamente sul Ponte Bayer, sulla passerella pedonale. Allora, stavo facendo un giro e guardando il corrimano mi sono accorto di una cosa. Allora, vedete qua, vedete qua, inizia dopo nemmeno un anno il Ponte Bayer a presentare il suo conto. Vedete? Allora, io non sono del mestiere, però qui o c'è del materiale scadente oppure del materiale fallato. Questo qui, tra poco, presenterà anche lui il suo conto ai cittadini, ovvero come tutto il Ponte dovrà essere, dovrà avere la sua manutenzione. Infatti, vedete anche il legno della balaustra che non ha più colore. Ponte Bayer, tengo a precisare che questo ponte è stato inaugurato il 23 ottobre del 2017, ovvero non ha neanche ancora un anno di lavoro. Noi siamo in queste condizioni qui con il Ponte Bayer. Non abbiamo ancora un libretto di manutenzione che forse non arriverà mai per il semplice fatto che non si deve fare sapere quanto costa questo ponte di manutenzione. va bene? Allora, dal Ponte Bayer io vi saluto e tengo a precisare che i listelli orizzontali ce ne sono ben 12 che sono stilati. I listelli orizzontali sono questi con le boccole in teflo perché le boccole in teflo dicono che siano eterne. Va bene? Allora, dal Ponte Bayer, vedete qua, io vi saluto e ci si vede in un altro video. Ciao a tutti!